Sugli altri punti si è valutato che non è ancora maturo l'accordo sul tema delle partnership for growth, sostanzialmente i contractual arrangements. Per quanto ci riguarda, io ieri sera, stanotte quando ne abbiamo discusso, comunque insistito e continuo a insistere sul fatto che ogni strumento che serve a legare ancora di più i paesi tra di loro è un fatto positivo. Perché dentro coloro che hanno la stessa moneta non possiamo non renderci conto del fatto che i legami, la solidarietà, il destino comune e quindi i rischi da errori che l'uno o l'altro fanno sono elevatissimi. E quindi io penso che sia una strada positiva, una strada sicuramente da abbattere. Abbiamo deciso di andare a un approfondimento che terminerà con il Consiglio europeo di ottobre, quindi sotto presidenza italiana. Credo che sia per noi un fatto importante e utile. Abbiamo discusso del punto sulle migrazioni. Su questo tema l'accordo è stato sulle cinque linee di azione della Commissione che era stata creata, cinque linee di azione che condividiamo. cooperazione con i paesi terzi, la protezione regionale e il resettlement, la lotta contro il traffico di esseri umani, il rafforzamento della servoglianza alle frontiere e il quinto l'assistenza alla solidarietà agli Stati membri che sono sottoposti a pressioni migratorie. ovviamente noi siamo uno di questi. Adesso comincia il lavoro in vista del Consiglio di giugno che riguarda invece la parte normativa e ci aspettiamo che questa comunicazione della Commissione venga rapidamente attuata nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Su questo punto è evidente che la nostra volontà su questo tema di sviluppare al massimo un'iniziativa italiana è rafforzata da quanto di positivo Mare Nostrum ha ottenuto ed è stato riconosciuto da tutti i membri del Consiglio europeo. è evidente che fattacci come quello di Lampedusa dell'altro giorno non aiutano e quindi io sposo assolutamente, ho condiviso la linea dura che il Ministro degli Interni ha usato rispetto alla necessità di un recesso e un cambio completo di gestione del centro rispetto ai fatti assolutamente intollerabili che sono accaduti l'altro giorno a Lampedusa. Abbiamo avuto poi questa discussione sicuramente importante, era la prima volta dopo 5 anni come sapete che ha riguardato i temi della sicurezza e della difesa, secondo me è un fatto significativo e importante innanzitutto per un motivo, si è avuto l'impressione che il Consiglio europeo non fosse un mega ecofin e questo è già secondo me un passo avanti molto importante perché tante volte in questi mesi anche di mia esperienza qui ho avuto l'impressione di essere in un mega ecofin piuttosto che in un Consiglio europeo venne proprio. Consiglio europeo venne proprio vuol dire che deve affrontare tutti i temi che sono quelli tipici di una grande unione come la nostra, la sicurezza e la difesa sono tra questi. Ecco perché abbiamo salutato positivamente il fatto che se ne sia parlato, se ne sia discusso, ecco perché abbiamo salutato positivamente anche molte di quelle conclusioni. Per noi è una strategia di lungo periodo questa, maggiore integrazione nelle politiche di difesa vuol dire meno sovrapposizioni tra ciò che fanno i singoli paesi, quindi vuol dire alla fine risparmiare rispetto alle spese di difesa di ogni singolo paese. L'unico modo vero per poter risparmiare sul lungo periodo è fare l'integrazione della difesa a livello europeo, sempre di più, perché se questo avviene allora si può risparmiare senza mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini europei. Viceversa Italia e la difesa sono solamente fatti a scapito della nostra sicurezza, della sicurezza dei nostri cittadini rispetto ovviamente, come abbiamo visto, a un mar Mediterraneo, per esempio, che ribolle di tensioni dovunque. Credo che sia molto importante, abbiamo discusso di alcune di queste tensioni, Siria, abbiamo discusso delle vicende Libano, Israele, abbiamo discusso di altri temi che ovviamente hanno a che fare con il ribollire dell'Africa del Nord, Mali, Centrafrica. Due punti segnalo nelle conclusioni importanti su questo tema, il punto 9 e il punto 11, significativi per noi, il punto 9 perché si lancia questa strategia marittima, che rappresenta sicuramente per noi, paese marittimo per eccellenza, un punto importante. Abbiamo deciso con la presidenza greca di seguire insieme l'applicazione di questo tema della strategia marittima e il punto 11 invece che è il punto che riguarda alcune delle eccellenze nella cooperazione industriale tra i nostri paesi e sono quelle che hanno a che vedere con temi per noi più interessanti. Penso al tema dei droni, lo sviluppo delle tecnologie in questo campo, si è parlato per esempio della necessità di un maggiore investimento e sviluppo in questo campo su ciò che riguarda per esempio la gestione dei flussi migratori, una cosa è avere a disposizione strumenti di questo genere per avere l'informazione, avere le immagini di quello che capita, altra cosa è dover fare esclusivamente riferimento all'uomo e allo sviluppo. E una serie di altri importanti, il tema del rifornimento in volo, il tema dei satelliti, delle comunicazioni, la cyber security, tante materie sulle quali l'Italia nella sua capacità tecnologica sicuramente può fare passi avanti importanti.